serle località villa una posizione fantastica vendo questa villetta libera sui tre lati a parte di un complesso senza amministratore no spese condominiali giardino tenuto benissimo vista lago vista lago si vede anche sirmione aeroba strada privata fuori tutto pietra finiture super nuova a 15 anni ma il nuovo organista meditata perfetta c'è mica vederla della corgetta bella finestra il soggiorno sempre con vista lago ecco soggiorno con angolo cottura ecco non pretendete il soggiorno di otto metri per 6 però è un bel soggiorno con camera da letto matrimoniale come alcune bagno tutto nuovo al primo piano seconda camera da letto matrimoniale con sul palco alto sta in piedi bagno che si affaccia sulla zona giorno se volete chiudete ma così è bello altro balcone sempre con vista lago è tenuta nuova nuova di armario fuori testa è bellissima prossimo video ti faccio vedere sotto siamo interratto ciao